Dopo bollate altri comuni della provincia di Milano rischiano di passare in zona rossa e stavolta, stando ai numeri, a correre il rischio sono anche due comuni del Magentino, Vittuone e Santo Stefano Ticino, mentre a Robecco sul Naviglio l'impennata dei contagi da 25 a 40 in un giorno ha spinto il sindaco a chiudere i parchi e chiamare i cittadini alla responsabilità. All'ospedale Fornaroli di Magenta nell'ultima settimana ci sono stati 31 ricoveri per Covid, di cui 18 solo nel weekend. A Vittuone è la situazione più grave, tanto che il sindaco Laura Bonfadini ha lanciato un appello ai suoi concittadini. In questi giorni il numero di contagi a Vittuone è salito drasticamente, dai 32 casi di ieri di positività Covid-19 al dato odierno di oggi di 43 i nostri residenti infetti. Siamo pericolosamente e proporzionalmente vicini al caso limite di 50 casi per 10.000 abitanti, che obbligatoriamente farebbe scattare la chiusura totale, la zona rossa, con tutti i divieti che essa comporta. Che cosa fare in questi casi? Ritengo non ci siano mezze misure, occorre autoresponsabilizzarsi e adeguare i propri comportamenti alle regole dei protocolli anti-Covid. Caso peculiare invece a Santo Stefano Ticino. In questo momento se noi dovessimo guardare gli indici di riferimento saremmo tecnicamente in zona rossa, perché gli indici di riferimento sono 250 positivi ogni 100.000 abitanti, quindi rapportato ai nostri numeri noi siamo 5.000 abitanti, sarebbe 2,5 positivi ogni 1.000 abitanti. Noi in realtà in questo momento abbiamo circa 20 casi positivi, per cui secondo gli indici noi tecnicamente saremmo in zona rossa. È chiaro che parliamo però di numeri molto piccoli, parliamo di 20 persone. Io sono ovviamente in contatto con ATS, la quale mi dice che non c'è nessun motivo per mettere Santo Stefano Ticino in zona rossa con questi numeri, che sì esulano dall'indice, ma che di fatto non rappresentano una preoccupazione. Quello di cui dobbiamo stare tutti attenti e che veramente rappresenta una preoccupazione è l'aumento generale dei casi positivi. Non a Santo Stefano, ma in Lombardia.